Ci ho messo 20 minuti meno del traghetto e anche lì giocavano 15 contro, che mi veniva un infarto a metà. Siamo andati in Sicilia e nonostante i loro sondaggi siamo diventati il primo partito in Sicilia. E' meraviglioso! E questi 15 parlamentari che sono dentro il Parlamento siciliano stanno facendo quello che hanno detto in campagna elettorale. Si sono diminuiti lo stipendio del 75%, si tengono 2.500 euro al mese invece di 20.000 e la differenza l'hanno messa in un conto della regione, non loro. Loro controllano ma è della regione e con questi soldi cominceranno adesso a fare microcredito a piccole e piccolissime imprese della Sicilia, agli agricoltori. Lo stiamo facendo noi e ci dovranno seguire su questa strada qua, ci stanno seguendo, non hanno alternative, la loro alternativa è seguirci o scomparire. E allora? Allora è meraviglioso, è meraviglioso la piccola e media impresa. Noi facciamo proposte, quando dicono che non abbiamo proposte io divento matto. Perché da me, dove sei Pietro? Vieni qua.